Secondi Vespri, Annunciazione del Signore O Dio viene a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ave o stella del mare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo. L'Ave del messo celeste, recca l'annunzio di Dio. Muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi. Scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Mostrati, Madre, per tutti, offri la nostra preghiera. Cristo l'accolga benigno, Lui che si è fatto tuo figlio. Vergine santa fra tutte, dolce Regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio, pieni di gioia nel cielo. Lode all'Altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, salga allo Spirito Santo, l'inno di fede ed amore. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e concepì dallo Spirito Santo. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il Principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e concepì dallo Spirito Santo. Maria, non temere, Dio ti ha guardata con amore, concepirai un figlio e lo darai alla luce, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Dal profondo a te grido, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle e l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, grande è presso di Lui la redenzione, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, non temere, Dio ti ha guardata con amore, concepirai un figlio e lo darai alla luce, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Io sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio di letto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primo genito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della Sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Io sono la serva del Signore, si compie in me la Tua parola. Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita. Poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Il Verbo di Dio fatto uomo è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo di Dio fatto uomo è venuto ad abitare in mezzo a noi. Egli era in principio presso Dio e è venuto ad abitare in mezzo a noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Verbo di Dio fatto uomo è venuto ad abitare in mezzo a noi. L'angelo Gabriele disse a Maria Ave piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. L'anima mia magnifica è il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. L'angelo Gabriele disse a Maria Ave, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre, che oggi per mezzo dell'angelo ha annunziato a Maria il messaggio della salvezza. Signore, donaci la tua grazia. Hai eletto la Vergine Maria perché divenisse madre del tuo figlio. Guarda con bontà a tutti coloro che attendono la redenzione. Per bocca dell'angelo hai annunziato a Maria la gioia e la pace. Dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. Per opera dello Spirito Santo e con l'assenso di Maria Vergine hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo Eterno. Disponeci ad accogliere il Cristo come lo accolse la Vergine Maria. Tu che innalzi gli umili e colmi di veni gli affamati, aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. Dio grande e misericordioso a cui nulla è impossibile, salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti l'eredità eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, tu hai voluto che il tuo verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.